Grazie a tutti. Ah, ok. Mi raccomando, bello spettacolo, la sicurezza è tutta. E lascia! Sto per sperimentare i rumori di Abyssing, quelli famosi in tutto il mondo. Come fai a sapere? Nella stessa maniera in cui so che Juan è un vottuto chupacabra e che Tilda è egoista. Ho ragione? E che Sarkov sta venendo qui? L'ha detto Lucerino Burke. Vai. Se ne è andata. Se ne è andata? L'ho fatta uscire dalla porta finestra. Vinci l'ho fatta uscire dalla porta finestra. Dove si trova? Certo, io voglio tanto dirti. Voglio renderti felice. Ma c'è la mia? Tu non sai quanto mi torturi, non farlo ma credo. Vi vuole uccidere Alex ancora di più. Questo fa di me una cattiva. Tieni la doccia, la doccia del Cari Burke. Ti allontani dal fuoco. Grazie. 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 Grazie.